Il settore benessere è in continua crescita e coinvolge ormai nel nostro paese ben 31.000 aziende. Un pianeta in evoluzione che ha bisogno di aggiornamenti normativi alla luce delle novità che lo riguardano, dall'applicazione delle nuove discipline bionaturali al sempre maggior spazio che i servizi d'estetica trovano in campo turistico. Ecco allora una proposta di legge voluta da Confartigianato che rinnova la disciplina di questa attività professionale per tutelare non solo la categoria ma soprattutto il benessere del consumatore. L'estetica ovvero la capacità di curare e dare bellezza al corpo è senza dubbio un'arte antichissima, un'arte che vuoi per la continua evoluzione della moda, vuoi per le nuove scoperte in campo chimico farmaceutico o per l'introduzione di nuove tecniche e attrezzature ha sempre conosciuto ritmi di sviluppo molto intensi. Il settore dell'estetica in Italia è disciplinato da una legge risalente al 1990 che non tiene conto dei notevoli cambiamenti subiti dal comparto negli ultimi anni. Proprio per questo la categoria si è fatta promotrice di una nuova legge per l'aggiornamento della disciplina. La proposta è stata presentata nei giorni scorsi a Roma, prima firmataria l'onorevole padovana Lorena Milanato, accompagnata per l'occasione da una delegazione guidata dalla Presidente Nazionale di Confartigianato e Estetica Anna Parpagiolla. In questi vent'anni c'è stata un'evoluzione così grande che in effetti l'estetista è cresciuta e ha necessità di avere un titolo di studio di livello superiore, quindi parliamo di scuola superiore, diploma di scuola superiore e poi anche perché si sono aggiunte apparecchiature, tecniche di massaggio, onicotecnica, tutte queste tipologie che vent'anni fa non esistevano o parzialmente. L'estetica è un mondo molto grande e l'estetista ha bisogno di una preparazione sicuramente superiore a vent'anni fa. Il percorso di vent'anni fa prevedeva tre anni di formazione, noi abbiamo voluto portare questo percorso a cinque anni con un titolo di studio, quindi diploma di scuola superiore in scienze estetiche bionaturali, dove all'interno di questo grande calderone c'è una preparazione su tutto quello che è il mondo estetico, anche perché l'operatore possa avere la possibilità di accedere all'università, quindi specializzarsi anche in altri settori. L'intendimento di questa formazione è proprio quello di dare la tutela al cliente su tutto quello che si fa all'interno dei nostri centri. La necessità di una nuova regolamentazione riguarda non solamente gli aspetti formativi o l'accesso alla professione, ma anche la strumentazione. L'evoluzione tecnologica ha infatti offerto al benessere molte possibilità di sviluppo grazie a nuove apparecchiature, molto spesso non sfruttabili a causa di un mancato adeguamento normativo. La legge prevede che ci sia una formazione più specialistica anche sulla conoscenza delle apparecchiature, perché il professionista possa sapere quali sono i suoi limiti e poter usare apparecchiature di nuova tecnologia con una preparazione adeguata e con la serenità di poterle anche usare con tranquillità. Una proposta di legge che avrà effetti benefici su una categoria che anche in provincia di Vicenza conta centinaia di imprese. Una delegazione vicentina era presente a Roma. L'estetista a Vicenza sono più o meno 350 e l'attività comunque è buona, nel senso che comunque c'è molto interesse per l'estetica. Condivido questa proposta di legge, sono stata presente a Montecitorio per la presentazione di questa proposta. Sono favorevole al discorso della formazione uguale a livello nazionale, quindi un discorso uniforme non più regionale, dove tutti gli operatori del benessere seguono un percorso formativo uguale.